fresco sposo pasquale mazzocchi potrebbe presto divorziare dalla salernitana come già traperato nei primi giorni di giugno il terzino partenopeo in procinto di cambiare maglia primo rinforzo del mercato di gennaio targato sabatini l'ex venezia è stato tra i calciatori più continui dal rendimento più costante nella seconda parte di stagione quella in cui la seretana ha gettato le basi per la clamorosa rimonta in classifica eppure nonostante il contratto fino al 2025 il feeling con la piazza nelle pieghe del rapporto tra il club e il calciatore qualcosa si è insinuato fino a creare i presupposti per la cessione del terzino il monza che l'aveva corteggiato anche a gennaio ora è pronto a riprovarci e potrebbe spuntarla mazzocchi piace anche al torino che lo considera l'alternativa al giovane rampante singo la salernitana lo cederà al miglior offerente la fascia destra resta sguarnita del ds de santis dovrà dunque raddoppiare i suoi sforzi visto che nicola è privo di esterni su entrambe le corsie per la fascia destra oltre a santon c'è un altro svincolato che piace si tratta di kevin malqui classe 91 il francese ha chiuso la sua esperienza al napoli e a cacciare un nuovo club anche il bologna lo avrebbe sondato la salernitana ha messo in meno anche il più giovane samuele berindelli classe 99 in forza al pisa che ha in organico anche il laterale mancino pietro beruatto un anno più grande appena riscattato dalla juventus dal brasilia in arrivo in italia ederson il centrocampista finito il minore dell'atalanta non ancora l'accordo economico con il club lombardo e per il momento attraverso i canali social della consorte lascia intendere che potrebbe anche restare per un altro campionato in granata il mercato è lungo e tutto può ancora accadere per la sua eventuale sostituzione oltre al norvegese tosbi della sampdoria l'alfabetana ha sondato anche dario saric sloveno classe 97 saric ha disputato un buon campionato con l'ascoli tanto da meritarsi le attenzioni di toro e samp duttile e tecnicamente valido può agire anche da centrocampista offensivo in attacco si valutano più soluzioni tra queste anche il ritorno di simone verdi dal toro in attesa di una risposta al blackburn per breton diaz la salaritana tiene d'occhio anche il mercato degli svincolati di lusso con cavani a fare da capofila con la samp si potrebbe riparlare di bonazzoli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti